L'accordo sul nucleare del 2015 non è negoziabile, parole del presidente iraniano Rouhani in una telefonata col collega francese Macron. L'Iran non accetterà restrizioni oltre i suoi impegni, sottolinea Rouhani, il quale si è impegnato col collega transalpino concordando di lavorare insieme nelle prossime settimane al fine di preservare l'accordo. Macron ha anche proposto di estendere le discussioni per coprire tre argomenti indispensabili in riferimento ai missili balistici, le attività nucleari oltre il 2025 e le crisi regionali in Medio Oriente.